Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video. Come sapete pochi giorni fa DJI ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per lui. L'aggiornamento è lo 0103000. Questo aggiornamento firmware è davvero importante che va a migliorare alcuni aspetti del DJI Mini 2 che non funzionavano benissimo sebbene rimane un drone pazzesco probabilmente uno dei migliori droni creati DJI per quanto riguarda ingegnerizzazione perché ragazzi parliamo di un drone che pesa meno di 250 grammi con caratteristiche allucinanti però alcuni aspetti erano ancora da migliorare e poi è stata introdotta anche una nuova funzione utilissima a chi ovviamente interessa quella funzione ma andiamo con ordine e andiamo a vedere qual è l'aggiornamento più utile che è stato introdotto. L'aggiornamento più utile che è stato introdotto è sicuramente per quanto riguarda le batterie perché adesso DJI è riuscito ad ottimizzare quello che è la batteria intelligente che ha introdotto nel DJI Mini 2 perché come sapete nel Mini 2 come per AIR, come per Pro, per tutti i droni che conosciamo di DJI, DJI c'era sempre abituata ad utilizzare le batterie al lipo mentre nella prima versione del Mini erano state introdotte le batterie agli ioni di litio quindi avevano delle caratteristiche e un modo di utilizzo e di mantenimento diverso a differenza di quello che invece siamo abituati con le batterie al lipo quindi le batterie agli ioni di litio che c'erano nella prima versione del DJI Mini non erano batterie intelligenti ma perché le batterie agli ioni di litio hanno meno possibilità di danneggiarsi se rimangono cariche quindi DJI non le aveva rese intelligenti anche per un discorso di peso perché comunque era il primo drone che doveva scendere sotto i 250 grammi e quindi la cosa più semplice era mettere delle batterie e non renderle intelligenti quindi avere meno elettronica sulle batterie per un discorso di peso e vi dicendo poi utilizzando questo accessorio che io ho portato sul canale era comunque possibile portarle in storage questo accessorio di cui ho fatto il video vi lo lascio qua sopra in descrizione anche perché comunque è un accessorio che funziona anche con queste batterie al lipo però DJI con l'introduzione di queste batterie al lipo le aveva comunque portate sul Mini intelligenti quindi queste batterie dopo alcuni giorni di utilizzo sarebbero dovute entrare in storage cioè iniziare a scaricarsi e arrivare ad una carica del 50 60 per cento una cosa del genere che è la carica ideale per essere in storage cosa vuol dire in storage per essere diciamo inutilizzate quindi quando loro vanno in questa modalità le batterie non si danneggiano e mantengono la loro capacità mentre se non le portiamo in storage batterie al lipo quindi anche quelle dei droni fpd quindi qualsiasi batteria al lipo se non viene messa in questa percentuale di carica rischia sia di danneggiarsi dal punto di vista delle prestazioni ma anche proprio di danneggiarsi fisicamente cioè di esplodere però come stavo dicendo non funzionava benissimo questa funzione intelligente per quanto riguarda il Mini 2 adesso con l'aggiornamento firmware tutto questo dovrebbe essere stato risolto e adesso queste batterie intelligenti dovrebbero essere diventate davvero intelligenti e una cosa che mi stavo dimenticando quando fate l'aggiornamento firmware l'aggiornamento dopo del drone ve lo fa una volta sola ma per le batterie dovete sostituire la batteria inserire l'altra batteria e fare l'aggiornamento per quanto riguarda il firmware delle batterie per il discorso che stiamo facendo prima perché comunque l'aggiornamento viene fatto per quanto riguarda tutte le altre funzioni sul drone ma il firmware per quanto riguarda l'intelligenza delle batterie va fatta in quello che è appunto la batteria quindi va introdotta la batteria fatto l'aggiornamento alla fine il drone si spegnerà sostituiamo la batteria riaccendiamo il drone con l'altra batteria facciamo l'aggiornamento per quanto riguarda il firmware della batteria e via dicendo fin quando lo facciamo su tutte e tre le batterie quindi non va fatto solo su una batteria ma su tutte e tre perché l'aggiornamento è appunto all'interno delle batterie e poi un'altra cosa che è importante che è stata introdotta per chi utilizza il mini 2 si sarà accorto che spessissimo ci veniva chiesto di calibrare la bussola cioè praticamente ogni volta che andavamo a riaccendere il drone o quasi ci veniva richiesto di calibrare la bussola questa è una cosa che normalmente con i droni DJI per chi è abituato ad utilizzare da tanto tempo i droni DJI sa che non succede nel senso che va calibrata la bussola poi difficilmente un droni DJI richiede la calibrazione della bussola se c'è realmente un problema lo richiede ma non che ogni volta che si va accendere il drone ci viene chiesto di calibrare la bussola mentre con questo mini 2 praticamente ogni volta come sapete chi ce l'ha lo sa veniva chiesto di fare la calibrazione della bussola quindi anche questa cosa dovrebbe essere stata risolta e poi dovrebbe essere stata migliorata addirittura anche la stabilità di volo una cosa incredibile perché era già pazzesco prima quindi queste sono le cose per cui è stato migliorato in questo aggiornamento firmware per questo che vi ho detto che l'aggiornamento firmware davvero importante perché risolve quei difettucci che aveva questo mini 2 che ripeto drone pazzesco che straconsiglio a chiunque con questi miglioramenti sicuramente diventerà ancora più perfetto e poi è stata introdotta una cosa sicuramente utilissima e che farà contenti davvero tante persone che la stavano aspettando la possibilità di utilizzare sempre lui il DJI mini 2 con lo smart controller quindi la compatibilità tra mini 2 e smart controller è una cosa che tanti stavano aspettando perché comunque molto interessava appunto questa compatibilità e finalmente è arrivata quindi ragazzi spero che questo aggiornamento e questo video vi sia stato utile se è così lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime curiosità spoiler e stampe 3d voli in fpv sempre se vi va iscrivetevi al mio canale te abbiamo offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao